Il Macchecomico, la scuola di comicità a Roma, con sede all'Accento Teatro, presenta il nuovo anno didattico. Sono Alessandro Mancini, il direttore artistico del Macchecomico, il laboratorio per soli comici professionisti, da 18 anni al servizio della comicità. Se sai già far ridere e ti piace il cabaret e la stand-up, il Macchecomico è il posto giusto per te, dove potrai migliorarti e ottenere grandi risultati. Il nostro metodo di insegnamento è semplice, efficace e si adatta perfettamente al tuo stile. Il lavoro e l'obiettivo della nostra scuola è finalizzato alla preparazione dei nostri allievi, fortificando la passione e la disciplina, che sono alla base della professione del comico. Se pensi che sia arrivato il momento giusto per mettersi alla prova e impegnarsi duramente, allora prenota un colloquio d'ammissione a info-macchecomico.it e insieme potremo capire il percorso didattico migliore al tuo stile. Seguiremo i comici passo passo, in classe, online e anche a casa se necessario, e saranno incoraggiati a ricercare la loro creatività e originalità, dall'idea del monologo alla messa in scena. Ti aspetto al macchecomico, dove per noi la risata è la felicità. Ma che comico, ma che comico che sei!